Si infittisce sempre più l'agenda dei sei candidati sindaco alle elezioni amministrative di Matera del 31 maggio. A Duce, che intanto ha incassato la disponibilità di Venanziarizzi dalla Finlandia a lavorare per la città in caso di sua riconferma, ieri sera ha illustrato le sue linee programmatiche sul turismo in un incontro negli ipogei di Piazza Vittorio Veneto. Mai più autobus turistici nel centro cittadino ha detto Riqualificheremo l'area deposito delle FALS era rifusa e prevediamo un parcheggio interrato in Piazza della Visitazione. Potenzieremo parcheggi coperti, servizi igienici e uffici informazione. Sul problema delle guide abusive a Duce si è espresso sostenendo che i tentativi di arginarlo con la questura non servono se non si sottoscrive un codice etico con gli operatori per l'uso di guide autorizzate. Il candidato infine ritiene necessario implementare l'organico della polizia locale, insufficiente anche per l'età avanzata degli agenti, almeno nei periodi di alta stagione ed è già stato concordato un corso di base di inglese per la polizia locale. Sempre ieri pomeriggio invece il candidato Antonio Cappiello insieme a simpatizzanti attivisti della sua lista è stato insittin fuori dal Cara di Via Nazionale per manifestare contro l'arrivo di 2000 nuovi immigrati in Basilicata. Lì ci sono 35 ospiti, ha detto Cappiello, dei quali solo 5 con lo status di rifugiati. Ci sono residenti della zona che si sono lamentati per atteggiamenti poco rassicuranti nei confronti delle figlie. Non siamo razzisti, ha specificato, ma certi fenomeni vanno regolati e se ci sono degli spazi abitabili da concedere vadano dati prima gli italiani, senza lavoro e in cerca di stabilità. Opporsi all'iniziativa, attivisti e candidati materani della lista sinistra Ecologia e Libertà agli antipodi per cultura e programmi politici da portare avanti in questa competizione. De Ruggeri, in una nota, è intervenuto sulla crisi dell'imprenditoria locale, segnalando la necessità di rivalorizzare le zone industriali. La crisi che attanaglia Italia e Europa ha ingigantito la fattura esistente tra nord e sud e in questo quadro di precaria ordinarietà il tessuto imprenditoriale locale sta pagando un prezzo altissimo che si riflette sui vertiginosi crolli occupazionali a cui assistiamo impotenti. Questa piaga deve essere affrontata con misure urgenti e accerte, come quella per le complanari sulla statale 99. Non possiamo perdere tempo, ha concluso. Occorre riprendere un serrato confronto con l'ANAS perché venga risolto un problema la cui soluzione era già prevista nel progetto generale, non totalmente realizzata. Antonio Materdomini, invece, ha commentato la sua partecipazione alla manifestazione contro il DDL, la buona scuola del governo Renzi. La posizione del movimento su questo decreto è sempre stata chiara. Vogliamo il ritiro del provvedimento, che non propone nulla di buono, avrà piuttosto pesanti ricadute sui territori creando scuole di serie A e di serie B. In serata poi Materdomini, coi candidati della sua lista, ha promosso una cena elettorale vegana alla romana. Angelo Tortorelli, a proposito della manifestazione sulla scuola, ha annunciato di non essere stato invitato e per questo di non aver partecipato. Rinnovando la sua vicinanza alle istanze del mondo dei docenti, perché la delicata riforma del sistema scolastico possa essere la migliore possibile per garantire un sistema dell'istruzione all'altezza del compito, Tortorelli ha auspicato che il mancato invito a partecipare sia stato frutto di un semplice disguido e non da debitare invece a logiche di tipo elettorale, che tendono a garantire evidenza solo ad alcuni dei candidati. Se così fosse, ha concluso, significherebbe strumentalizzare indegnamente quelle legittime istanze del mondo della scuola che il sindacato dovrebbe tutelare. Comincio in piazza, infine, ieri sera per il canno di dato sindaco Franco Vespe. Ulteriori approfondimenti nel corso degli appuntamenti informativi odierni.